E' attraccata in mattinata nel porto di Bari la nave scuola Kruzenstern del Ministero della Difesa Russo ormeggiata al Molo 12. Ve la mostriamo in anteprima in attesa della visita ufficiale tra poco più di mezz'ora del sindaco Michele Emiliano dell'assessore al marketing territoriale Antonio Vasile, accompagnati dal consigliere incaricato per la promozione dei rapporti con la Russia, Rokhi Malatesta. Alla cerimonia di schieramento dell'equipaggio a bordo della nave interverranno il ministro consigliere dell'ambasciata della Federazione Russa, Dymtry Stodin, il consigliere della rappresentanza permanente presso la FAO Alexander Okanov e il capitano di vascello Vladimir Kozlov. Il Kruzenstern, costruito nel 1938 con una superficie velica di 3000 metri quadri, è il secondo veliero più grande del mondo e conta un equipaggio di 150 unità. La nave sarà aperta al pubblico domani e dopodomani per tutto il giorno. Venerdì invece il veliero salperà la volta della città di Sokhi, sul Mar Nero, dove si svolgeranno i giochi olimpici invernali 2014. La visita del sindaco Emiliano e dell'assessore Vasile a bordo della nave russa sarà l'occasione per confermare la volontà dell'amministrazione comunale di rafforzare i rapporti di collaborazione in nome anche di San Nicola, molto venerato dal popolo russo. Grazie a tutti.